Omaggio a Federico García Lorca. La tecnica è tempera su tela, tempera su tela. In questo caso è un bolo d'Armenia, che è una terra rossa, con un altro bolo giallo, due tipi di bolo legati con una colla di coniglio. Con le stesse due tinte ho creato anche la cornice, solo che la materia è tela e questo è legno, quindi qua ho messo anche il gesso, anche qua c'è gesso, però vedi che è un po' differente anche la tecchitura, c'è differenza nella tecchitura. Ecco, poi passando al soggetto, il soggetto è Federico García Lorca, grande poeta andaluso, spagnolo, che è, si può dire, il momento del trapasso, perché questi l'hanno preso quando c'era questa guerra civile in Spagna. Questo è Federico, che sta scrivendo, che scrive con la penna, poi qui sotto c'è il soldato con il cannone, visto che non è in guerra, qua c'è un altro soldato con la spada, poi qua così, in questi punti qua, qua c'è un villaggio medievale, delle case viste anche dall'alto a spirale, un leone, da questa parte qua, è una simbologia, è un quadro simbolico, simbolico.